Quello su cui noi oggi dobbiamo concentrare a mio parere e al paere della mia società scientifica i massimi sforzi è quello di da un lato contenere l'infodemia che sta correndo tramite social e non solo nel nostro paese causando dei danni notevoli e dall'altro lato quello di pensare di salvaguardare le cosiddette prime linee, ossia i medici, gli operatori sanitari, le persone che operano in prima linea e in questo anche prevedere dei corridori preferenziali entro i quali pensare di andare a collocare nei prossimi mesi, nelle prossime settimane più che mesi, quelle che potrebbero essere queste moltissime eventuali richieste o anche eventuali contagi seppure non gravi come abbiamo detto per evitare di intasare non solo i numeri ma soprattutto gli ospedali, pronto soccorsi etc. Sicuramente la paura gioca una parte importante in questa prima fase, c'è forse un vulnus di comunicazione non tanto degli addetti ai lavori ma ci vorrebbe un governo a mio parere non solo dell'emergenza sanitaria ma anche della comunicazione rivolta al pubblico e in quest'ottica poter trovare così un modo per fare comprendere alla popolazione che si tratta realmente di un'epidemia con un virus nuovo ok, ma che ha una mortalità molto contenuta e che solamente come è stato detto bene dal professore Bassetti, poche persone arrivano in condizioni precarie e di queste poche persone la maggior parte sono persone che hanno già pregresse, patologie o comorbilità e per giunta hanno già una certa età, questi sono messaggi che dobbiamo fare passare con grande chiarezza. Certo, però il contagio si sviluppa in maniera non veloce ma aggressiva, su più persone rispetto a un'influenza è ovvio che aumentano anche i malati seri in progressione e quindi è anche giustificato che sia un ospedale, questa forse è la paura, giusto? Certo, sui grandi numeri anche un'epidemia che ha delle percentuali basse di mortalità e delle percentuali basse di casi gravi può sviluppare di numeri, ecco perché è importante secondo noi pensare già alla fase successiva. Stiamo facendo bene, stiamo recuperando alcune piccole ma importanti manchevolezze che ci sono state all'inizio, come quello di non mettere in quarantena o comunque di non avere una sorveglianza completa per i voli intermedi, ma non solo i voli perché poi in Italia entrano con tutti i mezzi, non solo attraverso gli aeroporti. Sì, certo, uno arriva in Germania per prendere il treno, certamente. Appunto, detto questo oggi il contenimento del virus che significa nell'ipotesi migliore fermarlo lì, difficile, ma rallentarne la sua diffusione il più possibile è importantissimo, perché? Perché questo consente alla scienza di avere, di poter fare, seppur i tempi sappiamo non sono brevi, si parla circa di 18 mesi, chi dice più, chi dice meno, arrivare ad avere delle armi più forti per contrastarlo. Dall'altro lato è quello di dare anche la possibilità magari ai pazienti più fragili, alle persone più fragili di arrivare anche potendo in parte anche potenziare il proprio sistema immunitario e quindi magari non ricadere in quella forbice sfortunata di quel 5% di pazienti gravi o gravissimi. Dall'altro lato, se posso aggiungere un dato rispetto a quello accennato dal Professore Ricciardi prima, i dati che lui ha divulgato oggi fanno riferimento ai casi diagnosticati in laboratorio e quindi conosciuti ai diversi sistemi sanitari, in questo caso sono dati che provengono prevalentemente dalla Cina, ma è una visione complessiva. Noi sappiamo, perché è facilmente ipotizzabile, anche studi importanti, autorevoli, internazionali ci dicono che i contagiati che non sono i diagnosticati potrebbero essere 10 volte tanto, quindi quel tasso di mortalità che noi oggi diamo in una forbice tra il 2 e il 3% potrebbe essere 10 volte meno, quindi tra lo 0,2 e lo 0,3% a livello complessivo. Non rilevato, potrebbe essere molto più ampio. Esattamente. Perfetto.